Sono trascorsi quasi due mesi da quando il direttore del parco archeologico di Pestum, Gabriel Zugtrigel, è stato chiamato a dirigere il parco archeologico di Pompei. A distanza di tempo dunque la città dei Templi dà il benvenuto al professor Massimo Zanna, direttore generale dei musei, che ha avvocato la direzione del parco archeologico di Pestum e Velia a sì, nell'attesa della selezione del futuro dirigente attraverso un bando internazionale. Estendiamo i nostri in bocca al lupo anche alla dottoressa Maria Luisa Rizzo, che lo affiancherà in questo nuovo percorso come direttore facente funzioni. Un ringraziamento speciale va al direttore Gabriel Zugtrigel, ora in servizio al parco archeologico di Pompei, per tutto il lavoro svolto a Pestum e Velia, fanno sapere dal parco archeologico di Pestum Velia.